bentornati riprendiamo la nostra bella immagine di paesaggio invernale in montagna e adesso andiamo a risolvere questo problema mentre le nuvole mi piacciono molto anche questo luce calda quando c'è un filo di sole e questo grigio appena il sole non c'è è molto bello però questo questa parte del dell'albero proprio non mi piace allora attivo la mia maschera e vediamo subito che qui nella correzione tutta la parte alta del dell'albero è stata intaccata e dunque io vorrei creare una maschera per evitare che questo succeda allora guardate qui in fondo là dove abbiamo impostato appunto il filtro graduato abbiamo maschere intervallo e qui se clicco ho la possibilità di scegliere maschere di colore o di luminanza qual è la differenza allora adesso nascondo un attimo qui la maschera se io scelgo una maschera di luminanza posso definire l'intervallo di luminanza sulla quale viene applicata la maschera allora attivo così noi vediamo molto bene io vorrei mascherare tutta la parte più scura dunque guardate esposto il cursore delle ombre verso destra voi vedete che gran parte dell'albero è stato eliminato dalla mia maschera adesso nascondo la visualizzazione e effettivamente è così prendo anche questa impostazione qui attivo e anche qui vedete abbiamo lo stesso problema dunque di nuovo clicco su luminanza tiro via la luminanza nella parte dell'albero vedete perché quello è più scuro e dunque concentro tutto la mia maschera in un intervallo colore che va dal 68 al 100 dunque solo nelle zone più luminose tolgo la maschera e come vedete già è diverso guardate il prima e il dopo vedete che l'albero rimane uguale cambia solo il cielo adesso posso effettuare ancora delle leggere modifiche andiamo a vedere di nuovo qui posso fare di più posso provare questa volta a usare anche il colore guardate campiono il mio colore il mio colore potrebbe essere questo cielo qui e guardate questo funziona col colore decisamente meglio vedete che ho lasciato la maschera ma ho eliminato la presenza dell'albero nella maschera posso lavorare sull'intervallo guardate spostando verso sinistra aumento la nitidezza dell'albero oppure diminuisco la maschera oppure qui creo effetti migliori allora in questo caso nascondo la maschera e in modo da vedere meglio com'è intanto ci avviciniamo così vediamo meglio riprendo qui vediamo se riesco a vederlo ok adesso riprendo qui riprendo il mio intervallo e vado a valutare così sicuramente no man mano che lo sposto direi lasciamo questo tipo di intervallo proviamo a vedere decisamente meglio adesso lavoro in nell'ugual modo su questa maschera qui guardate abbiamo detto che vorrei lavorare solo sulle zone luminose e dunque scelgo colore clicco col colore qui questa volta senza selezionare solo cliccando sulle zone più chiare guardate la maschera è già cambiata adesso qui regolo vedete disattivo e guardate il prima e il dopo guardate il prima e il dopo vedete come ho contrastato poi naturalmente io posso qui ancora effettuare impostazioni diverse ad esempio vedete se lavoro troppo sulla luce qui è proprio troppo marcata però guardate aumento un po' l'intervallo perché è troppo poco morbido come passaggio dunque qui aumento un po' vorrei aumentare un po' la foschia un po' la chiarezza pochettino le ombre e un pochettino le luci ecco così non è male infine potremmo prendere ad esempio di nuovo il pennello di regolazione perché ovviamente le maschere le possiamo utilizzare anche qui riduco un po' la sfumatura guardo che tipo di impostazione abbiamo dunque aumento il contrasto va bene aumento le luci e le ombre i bianchi magari non in modo così eccessivo e la chiarezza e passo qui vedete guardo la mia maschera vedete ad esempio questa parte qui vorrei eliminare allora anche qui posso utilizzare la maschera cosa abbiamo da segnalare qui forse le zone più scure e dunque in questo caso scelgo luminanza e voglio lavorare solo sulle cose le zone più scure dunque tolgo la parte più luminosa guardate perfetto vedete adesso è molto più bello come maschera nascondo e qui si vede la differenza posso aumentare un pochettino i neri un po la temperatura magari un po freddo è un po magenta guardate prima e dopo è cambiato molto avete visto però è una maschera perfetta perché ho potuto utilizzare la maschera ma selezionando o in base alla luminosità o in base a un colore e questo ovviamente mi consente veramente di creare effetti notevoli guardate la modifica prima della maschera e dopo con le maschere vedete che i passaggi sono molto più belli l'albero più bello qui è tutto più più naturale proprio perché siamo riusciti a creare maschere perfette grazie a queste queste nuove maschere che io trovo veramente fantastiche sono entusiasta da questa introduzione nel camera raw 10 dalla possibilità proprio di applicare maschere alla nostra immagine